Continuiamo a parlare di regioni, spostandoci però in Lombardia. L'assessore all'agricoltura lombarda Gianni Fava è infatti andato a visitare aziende agricole nella Bergamasca con tutte le difficoltà e le particolarità che la montagna ha in questo settore. Vediamo. Senza agricoltura in montagna non c'è più neanche il territorio, perché gli agricoltori sono i custodi del territorio in montagna e noi dovremmo trovare delle modalità per agevolare questo tipo di attività. Devo dire che l'Unione Europea in questo ci aiuta, perché la nuova programmazione comunitaria spinge verso forme di aggregazione che migliorano il prodotto, organizzazione del prodotto, tutte dinamiche che portano a una premierità specifica nel settore agrozootecnico di montagna e che ci porteranno a dover articolare il nostro piano di sviluppo rurale su due grandi filoni distinti, l'agricoltura e l'agricoltura di montagna. Io credo che questa sia una delle poche vere e reali prospettive che ha l'agricoltura di montagna da questo punto di vista. C'è multifunzionalità, multidisciplinarità, la capacità di poter coniugare un'attività agricola vera, perché in questo caso stiamo parlando di agricoltori veri che fanno agricoltori addirittura con tecniche tradizionali, alla possibilità insieme di divulgarla a un pubblico molto vasto, come è quello dei turisti, piuttosto che degli studenti delle scuole. Quindi una fattoria didattica che è fattoria vera, che non è solo didattica da questo punto di vista e che ha fatto di una sorta di ciclo chiuso quasi totale una ragione d'esistenza. Lui produce tutto quello che gli serve o quasi tutto quello che gli serve e lo mette a disposizione di clienti, di soggetti fruitori in una logica virtuosa.